Buonasera Sandro Parcaroli, a settembre un anno da sindaco, sindaco di Macerata, lei l'ha definito questo anno, questa prima esperienza molto bella, entusiasmante. L'Italia si attende da voi sindaci un passo in più, addirittura si presume che il prossimo Presidente della Repubblica verrà eletto anche dai sindaci italiani. Quindi uno scenario davvero pieno di emozioni e di prospettive e naturalmente di aspettative da parte delle popolazioni. Siamo in un periodo di estate di San Martino, a proposito preferisce le castagne di Crispiero o quelle di Macerata? Buonasera a tutti innanzitutto. Le castagne di Crispiero sono castagne piccole ma saporitissime, le castagne che compriamo tante volte le mangi con gli occhi ma quando le vai a mangiare vero e proprio non hanno il sapore di quelle di Crispiero. Però intanto si è trasferito a Macerata vicino al luogo, al palazzo comunale, dove ogni giorno presta la sua opera. Non toccare questo argomento perché avere abbandonato casa che avevo costruito con tanta fatica e tanto desiderio averci una casa propria, costruita e disegnata a me stesso, abbandonarla per venire a Macerata e vivere su un appartamentino a studente. Però anche quello fa parte di quello che voglio fare. Benissimo. E da Crispiero andiamo a Parma dove c'è stata l'Assemblea del Lanci e Draghi, il Premier Draghi ha detto che nelle vostre mani, voi sindaci italiani, dipende il successo, tutto il successo del piano nazionale di ripresa e resilienza. Lei che si è tenuta la delega per l'Europa, quindi ci aspettiamo molti soldi dall'Europa per Macerata che ne ha molto bisogno sul piano infrastrutturale. Sì, io mi sono tenuto la delega dell'Europa perché, sapete tutti, stanno arrivando parecchi soldi all'Europa su vari settori, sono sei tematiche dove arriveranno questi soldi, parecchi soldi arriveranno, però oltre che arriveranno, devi fare dei progetti per catturarli. Se non hai i progetti nel cassetto e li tiri fuori al momento giusto, questi soldi non li prendi. Io penso che stiamo vivendo un periodo dove sta arrivando l'ultimo treno, se noi non saliamo anche sull'ultimo vagone e catturiamo questi soldi che arrivano dall'Europa per fare dei progetti per Macerata che ne aspettiamo da tanto tempo. Però io penso un'altra cosa fondamentale, io vengo da un settore, dall'economia per 40 anni, ho diretto un'azienda, bisogna catturare anche questi soldi non solo per fare dei lavori che necessitano a Macerata, tipo il passaggio a livello, tipo quello, tante cose che dobbiamo fare, ma dobbiamo portare anche investire questi soldi per far ritornare un'economia a Macerata, perché noi marchigiani diciamo sempre che la casa alloggia ma non governa, quindi è vero, io posso fare tutte le infrastrutture che servono all'economia, però devo creare anche un'economia con questi soldi per poter dire che quando non arriveranno più questi soldi non mi necessita fare progetti e prende i soldi a Europa, ma ce l'ho dentro casa. Io un po' anziano invece, sindaco, mi sento e quindi penso alla salute. Lei che è la massima autorità sanitaria, a lei che è la massima autorità sanitaria della città, chiedo a che punto è la notte, parlo del Covid, perché pare che in rianimazione mi hanno detto che su tre, su quattro persone che intubiamo per il Covid, tre non sono vaccinate. Sì, questi sono i dati che ho letto anche stamattina, è vero, su quattro persone che sono ricoverati, contaminati, tre non hanno fatto le vaccinazioni e questa è una cosa grave per me, cioè il rispetto per le altre persone, il rispetto per la sanità, per tutti i soldi che investiamo sulla sanità ci deve essere, quindi io mi sono vaccinato ma non mi sono vaccinato approfittando della posizione a sindaco, perché un sindaco se si ammala lascia la poltrona a sindaco e lasciare la poltrona in questi contesti così anche non va bene. Mi sono vaccinato quando è arrivato il mio turno, quindi io avrò il turno per la terza vaccinazione a gennaio perché è passati sei mesi dopo che ho fatto la seconda e sarò il primo a andarmi a vaccinare quando è il mio turno. Io voglio vaccinarmi per rispetto di tutte le persone che ho intorno. E a proposito di ospedale nuovo? L'ospedale nuovo si fa, si fa, io da quando, da prima che io mi candidassi sono andato a vedere il posto dove si deve fare l'ospedale. Dove si fa? Si fa laggiù sopra la Sforza Costa, quella terra che andiamo giù lì, che è tutti quei piani laggiù e lì uscirà anche la strada, la Cambugiano uscirà la strada vicino. Lì, allora, l'ospedale, anche Salta Martini, ieri che abbiamo aperto queste otto postazioni al pronto soccorso di Macerata ha ripetito la stessa cosa. Stasera ho un incontro con Salta Martini proprio per parlare dell'ospedale. Il nuovo ospedale di Macerata. Guardate, io ho vissuto anche personalmente all'interno del nostro ospedale. Il nostro ospedale ha delle persone che vivono, dei dottori, degli infermieri, magnifici. A proposito di Contrada Campogiano, il pensiero corre subito alla grande infrastruttura di cui si dovrebbe iniziare il cantiere. Parliamo appunto di quel libro dei sogni, che attualmente finalmente sogni non sono più, che è la quadrilatero e la superstrada di Chienti, a cui finalmente dovrebbe collegarsi Macerata, sotturando questo abisso tra le due valli, della Val Potenza e Val di Chienti, in cui è diviso il capoluogo. A Campogiano ci sono poi anche dei problemi localistici, pare, no? Sì, pare sugli espropri, costa di questi giorni, che in questi espropri qualche proprietario si sta opponendo. Ma quella è una strada molto, molto importante che l'aspettiamo da tanto tempo. Allora, io l'ho detto prima, riportare l'economia nella città, ma per riportare l'economia bisogna averci anche le infrastrutture. Quindi quella strada è molto importante, ma la Campogiano arriva fino a dopo la galleria. Noi stiamo facendo il progetto e ho già la certezza che abbiamo trovato i soldi in regione per poter continuare dopo la galleria e arrivare giù fino al Ponte Bianco. Lì ci saranno due strade, tra cui. Una che è già stata stanziata, 4 milioni e 300 milioni, che è dal casello, dopo la galleria in fondo, dove ci sta la cassa cantoniera, c'è la strada che taglia quella curvaccia lì. Lì ci sono già dei soldi stanziati per fare quella strada, per ammodernare quella strada, ma quella sarà una strada un po' chiamiamola più comunale. Ma la strada bella, definitiva, è quella che taglia giù fino al Ponte Bianco. Avete visto questi giorni che c'è stato anche delle regioni per l'uscita dell'autostrada giù da piedi alla Recina. Quindi noi che abbiamo in sostanza? Qual è l'infrastruttura delle strade della provincia? È la strada che da Fabriano verrà a Castremondo e arriverà fino alla Muccia. Anche quella è arrivata, adesso io ho visto passando, che hanno picchettato anche la strada a Castremondo e quella arriverà alla Muccia. Dopodiché quella verrà giù, avremo il problema dell'uscita giù a Civitanova della rotatoria perché lì d'estate è un imbuto grandissimo, avremo la strada San Severino-Tolentino e abbiamo la Comuniciano-Pieve-Ponte Bianco che ci apre verso la Recina. Quindi come infrastrutture, poi io ne ho anche un'altra in mente perché dai Vici del Fuoco non può essere che i Vici non senti il rumore perché non senti molto, se la portano via. Quindi dal Vici del Fuoco arrivare fino al passaggio livello che leveremo. Anche il passaggio livello stiamo espropriando la terra intorno perché stiamo trovando gli ultimi soldi per fare il passaggio, per fare la galleria sotto il passaggio, la galleria, il sottopasso sotto... Come mai non è stato fatto fino ad ora? Ma guarda, erano stati stanziati, non c'erano dei soldi. Allora, lì funziona così, che ogni passaggio livello che leviamo le ferrovie da 700 mila euro, quindi noi ne leveremo due, abbiamo un milione e quattro. Altro milione e due era stato stanziato, sta fermo in Regione, dovevamo sfruttarlo quest'anno, noi la faremo a sfruttarlo, però io so che la Regione lo leverà ma me lo ridarà. Però non bastano perché bisogna fare un sottopasso dove passano anche dei cami con una pendenza, che non è che mi arriva il primo temporale, avete visto che succede con il passaggio della temperatura, l'innalzamento della temperatura in Sicilia, io non vorrei che domani il cambio del tempo arriva dei temporali che butta giù tanta acqua in pochi minuti, che se non facciamo un sottopasso fatto verde, troviamo il sottopasso allagato, quindi bisogna fare un sottopasso più morbido, più grande, più alto, dove possono passare i cami e ci vuole circa, quello che mi dicono i tecnici, 4 milioni e mezzo. Io sto trovando l'ultimo milione e 7 per farlo. L'avevo inserito sul programma del CIS io sì, ma era uno dei tre progetti che avevamo inserito nel CIS, solo che invece di progetti presentati sono stati per 900 milioni e sono invece stati distanziati 90 milioni, quindi non è entrato questo sottopasso. Però è una priorità assoluta che dobbiamo fare per Macerata. Quindi il sottopasso è la mia priorità di farlo. Quindi poi se c'è la Campugiano, quella strada di Dio, lo scorrimento, allora noi avremo due strade, un po' quelle più cittadine e un po' quelle di comunicazione veloce che ci passano da una valle a un'altra. Cosa molto importante perché se l'ospedale nascerà verso Sforza Costa, quelli che verranno da Villa Potenza o che verranno a Gingoli, verranno ad altri paesi, possono andare all'ospedale con una via diretta senza passare dentro le mie principali Macerata. Cioè snelliremo un po' questo traffico dentro Macerata che in certi orari ne imbuti. Lei pensi al passaggio livello la mattina e la sera, quando c'è mezz'ora di fila? È impossibile, no? Un'altra patata bollente di questi giorni, leggo dai manifesti, dalle locandine dei giornali, scintille in Consiglio Comunale, rappresentate dal centro commerciale di Piediripa. Allora, è uscito prima sui giornali che io sul mio tavolo. Allora, nel 2014, io faccio un po' da storia, la storia di questo qui, di questa terra, roba genere, ha 20 anni, 30 anni. Io l'ho vissuta personalmente come azienda nel 2014, quando la ditta Simonetti doveva costruire in quella zona 7-8 cubi dove portava la sua società, portava l'esposizione dei suoi laterizi e io a Simonetti, personalmente, ero andato giù a Civitanova, gli avevo chiesto vicino al carrozziere una streccia di terra di 2-3 mila metri quadri per fare la sede della mia azienda. E quello era il progetto. Mi aveva fatto vedere, c'era ancora l'ingegner Gigli, che adesso non c'è più, che era un carissimo amico, mi aveva portato da Simonetti, che stava in provincia, mi aveva portato a Simonetti per vedere il progetto di quella lottizzazione, perché quella lottizzazione lì era passata area commerciale. Non l'ho passata io area commerciale, l'avevano passata prima area commerciale, quindi quella è una zona commerciale. Dopodiché io avevo chiesto questo pezzo di terra, poi la cosa si è fermata, non ho saputo più niente di quello che era successo, io ho trovato un altro pezzo di terra e ho fatto la sede dell'azienda lì. Lì c'era la viabilità, l'allargamento a quattro corsie, c'erano in bocca o quassù e c'era tutta questa roba. È logico che diventava una zona commerciale, quindi noi avevamo anche il Citiper che era nato giù, dentro Valle Verde e anche allora si pensava di uno sbocco, ma allora si pensava di uno sbocco dalla superstrada, cosa che invece non è stata mai pensata dall'Anas e una roba del genere. La cosa che adesso anche sto vivendo e voglio fare al Citiper è l'uscita dalla strada nazionale che passa davanti al Citiper e viene su la rotatoria, oltre alla lottizzazione Simonetti, per snellire il traffico e andare al Citiper. Quella si farà, quella è terra di Coridonia, ho già parlato con il sindaco di Coridonia, vediamo come fare quei 150 metri che servono, ma l'uscita dalla superstrada non c'è. Poi in questi giorni si parla dell'allargamento del ponte con la provincia e poi ci sarà la cambugiana, quindi il traffico lì non sarà più il traffico che c'è adesso, però quella lottizzazione lì era per fare quei moduli lì. 20 giorni fa mi è venuto a trovare Simonetti e mi ha portato, non un progetto definitivo, ma mi ha portato un progetto di un centro commerciale, badate bene, in quegli anni, nel 2014, il centro commerciale, vedete Coridonia, non si poteva fare più a galleria chiusa, dopodiché nel 2015, adesso lasciatemi un po' il periodo 2015-2014, in quel periodo lì perché non ho le carte adesso sotto, è ripassato la zona di fare i centri commerciali a galleria chiusa. Simonetti quindi era nato, un progetto che era diverso, sempre commerciale, quella zona di cementificazione, quella diventa perché è commerciale, non si può più ritornare indietro, anzi è stato pagato alla vecchia amministrazione di prima, ha già degli oneri, mi divono 350 mila euro di oneri, che gli oneri si pagano quando tu inizi, invece è stato pagato prima, non so perché è stato pagato prima, lo so ma io non voglio fare polemiche, è stato pagato prima, quindi ha già Simonetti ha pagato al comune degli oneri per costruire, quindi fermare un progetto, adesso io ho sulla carta questo progetto che non è definitivo perché devo capire chi ci andrà dentro, che farà, che succederà, quindi io mi devo prendere del tempo per analizzare bene la situazione, quindi andare sul giornale e dire io voglio fare, non è vero niente, stiamo analizzando la cosa, perché ci è arrivata sopra la scrivania l'altro giorno, una bomba, una bomba, un regalo di Natale, una bomba, io ho levato l'innesto, sta lì buona e vediamo bene come fare, quello che dico è una zona commerciale, quindi non è che puoi fermare un progetto e rimettere la zona agricola, perché è commerciale, basta. E sono stati pagati anche dei soldi? Sono stati pagati dei soldi, sono stati pagati questi 300 lì e poi è stata data al comune una chiesetta che sta al centro per fare passare questa zona, quindi io voglio analizzare bene la cosa, tutti i cittadini non sono contrari, vediamola bene, io tengo al centro di Macerata, perché io ho detto sempre che vorrei fare un centro commerciale all'aperto a Macerata, perché dobbiamo, però anche lì bisogna far mettere a accordo tutti i commercianti, perché sai come funziona il centro, i centri commerciali funzionano, che c'è la proprietà e poi c'è la gestione, la gestione deve fare in modo che questo centro commerciale funzioni, dalle pulizie, dai servizi di sicurezza, dagli orari, dalla pubblicità, se no, se noi facciamo un centro commerciale all'aperto al centro e ogni commerciante mi apre, mi chiude e fa tutto quello che vuole, il centro commerciale all'aperto non nascerà mai, poi bisogna dare più, un lucco, bisogna dargli, però bisogna trovare anche i soldi per farlo. E nel centro storico avete un altro grande partner, una grande istituzione, che è l'Università di Macerata, con il rettore Adornato che è alla guida, ha cinque anni alla guida dell'Università, avete ripreso dei buoni rapporti come comune mi pare. L'Università è la più grande industria di Macerata, come fai a non andare a corto con l'Università. Beh, finora non ce ne so, eccetto l'ultimo anno. A me, guardi, fare polemiche su quello che è successo mi ha sempre fastidio, l'essenziale è quello che voglio fare io, io ho allacciato subito un rapporto con Adornato, anzi, ci chiamo anche del tu, io ho provato a dire no, lei, 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 no, mi devi dire, c'è un discorso di amicizia, ma perché c'è un discorso di amicizia? Perché siamo nella stessa baracca, o remiamo insieme oppure la barca si gira, uno che non sta su una barca e i remi devono essere coordinati, se no la barca si gira e non va bene, quindi non abbiamo più la strada dritta. Io qua Adornato con il magnifico rettore stiamo cercando di collaborare insieme per dare una strada dritta sempre verso quello che voglio fare, verso la città che guarda al futuro. E quali progetti avete per esempio? Ma nell'università ne abbiamo tantissimi, ci sta l'assessore, abbiamo tantissimi, tantissimi, adesso qui all'Incarni c'è una fila, uno, uno, per il centro storico, che c'erano stati tanti progetti che poi sono naufragati, sono una pagina di progetti che mi ero segnato lì, le dico che ne so, innanzitutto è l'umanesimo digitale, allora anche questo, vedi le antenne e robe del genere. Io ho due progetti grossi, dopo adesso ne potremo anche parlare, quindi la digitalizzazione è molto importante, dove andiamo? Quindi l'umanesimo digitale, l'umanesimo di rinnova e robe del genere è una cosa molto importante e quindi la collaborazione dei progetti che anche ho io, di chiarire l'industria della digitalizzazione è molto importante. Poi ci sono tutti i settori culturali che possiamo fare con l'università, tutti i progetti anche europei che possiamo fare con l'università, cioè da solo progetti europei, io sui progetti europei voglio mettere d'accordo un po' tutta, anzi non solo Bacerata, io anche i comuni dei 55 comuni che sono nella provincia, perché voi pensate che un comune piccolo non c'è nemmeno il segretario, c'è il segretario part time, come fa un progetto europeo? Quindi bisogna creare un'archività per fare questi progetti e l'università è uno di questi, come facciamo l'università? Io quello che mi auguro, dato che conosco, ma conosco anche il rettore dell'università di Camerino, che ci sia anche collaborazione tra loro, perché come io voglio fare la collaborazione con tutti i sindaci, perché non dobbiamo fare collaborazione tra l'università? Io lo dico, il vagone è di tutti, se lo perdiamo e uno non sale, l'ha perso. E con Pettinari avete? Pettinari lo conosco da quando eravamo, io ho 5-6 anni più di Pettinari, eravamo ragazzini e vivevamo sullo stesso quartiere, non lo conosco Claudio. Appunto, ho voluto introdurre il discorso. Però ecco, l'università di Camerino e l'università di Macerata devono andare a Bracetto, il comune di Camerino e il comune di Macerata devono andare a Bracetto, l'università di Macerata devono andare a Bracetto. Io sono uno che crea sinergie, l'ho fatto sempre nell'azienda, non sono stato sempre il proprietario, ma i miei dipendenti erano persone molto importanti ed erano i miei collaboratori, nemmeno dipendenti, erano molto… se non creiamo questa sinergia tutte insieme, non andiamo a nessuna parte. Quella collaborazione che si era al tempo della presidenza in provincia di Franco Capponi, che si era prefigurata tra Unimic e Unicam, poi e dopo però non si è mantenuta. Ma l'università di Ancona ha anche tutte le università, sono tutte le nostre, sono belle università, perché l'università di Camerino è al primo posto, ma anche quella di Macerata è tra le prime piccole università d'Italia, quindi sono delle chicche, sono università bellissime, dove c'è un colloquio con i professori, dove c'è un'armonia anche dentro l'università. Quindi perché non lavoriamo insieme e facciamo presenti tutti insieme? Ma allora noi, ma che stiamo a fare qui? L'ho detto all'inizio, noi siamo qui per le persone anziate, per i giovani, per quelli che perdono lavoro per non fare perdere lavoro, per riportare in economia, per far ritornare nella nostra provincia quello che era un po' più belle province d'Italia. Guardate, io dico sempre quando mi viene a trovare qualcuno che lo porto da cima alla torre del comune vicino alla piazza, perché guardate, andiamo da cima alla torre, guardiamo intorno e guardiamo quello che abbiamo e capiamo. Se noi non capiamo quello che abbiamo, come fai a fare progetti e avere un amore per questo ritorno? Ci sono stati poi ultimamente dei fatti che purtroppo hanno un po' macchiato questa immagine qualche anno fa di tranquillità, di serenità della provincia maceratese. Che ordine pubblico e politiche sociali sono rientrate in un quadro più sollevato? Sono fatti che sono successi, sono fatti che potevano succedere e non hai tutte queste colpe perché sono successi, sono successi, potevano successe su altre cittadine, sono successi qui, sono fatti drammatici che ci porta a vedere che dobbiamo stare attenti al territorio, dargli sicurezza, dargli tranquillità. Una volta si lasciava le chiavi sulla porta, oggi non le puoi lasciare più. Ogni tanto adesso vediamo nei giornali che su dei quartieri sono arrivati dei lati, quindi noi stiamo mettendo più telecamere, stiamo facendo più sicurezza, stiamo collaborando la mia Polizia Municipale con la Questura, con i Carabinieri, con i Vigili del Foco, con la Finanza. Anche quelle, le riunioni che stiamo facendo col Prefetto, che è una grande persona che sta riunendoci per parlare anche di sicurezza e roba del genere, è molto importante perché anche lì la mia Polizia Municipale da sola non può fare niente. Insieme possiamo fare tante cose. C'è questo problema della sera dei giovani, anche i giovani, anche ieri sera, io vado in giro anche la sera a mezzanotte e luna, vedo tutti i giovani, il problema anche adesso, questo Covid mi mette paura perché anche ieri sera il corso era pieno, 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 però anche lì i giovani sono giovani, siamo stati sempre giovani. L'essenziale è comportarsi bene. Ora, se prendiamo 100 giovani, 90 si comportano bene e 10 no. Purtroppo 10 no, è quelli che dobbiamo stare attenti. Quindi l'ordinanza che faccio, chiusura, la musica, adesso abbiamo riportato la musica a mezzanotte, i parchetti, cioè tutte cose però da vivere insieme perché io non posso fermare i giovani che giovedì hanno questo perché sono giovani, siamo stati sempre giovani, però bisogna che siano giovani che sono corretti. E dico che io parlano con i giovani, su 100, 90 sono corretti, anche 95. Troviamo sempre quei 4-5 che, io poi me ne accorgo perché vivo anche lì, che alle 3-4 ancora stanno facendo un macello. La svegliano? Ma per fortuna degli infissi, adesso inverno, l'estate, mi svegliano, è un problema. Qualche anno fa girava, c'erano delle scritte sui muri della città del centro storico, no? Ai sindaci sceriffi, se le ricorda a tempi del sindaco Meschino, c'è ancora bisogno di sceriffi? Il giovedì notte. Io parlerei sempre, mi salutano tanti i giovani, mi riconosco come sindaco, io ci parlo, come parlo anche con le persone del centro perché quelli che vivono e che reclamano tanto sono anche i cittadini del centro che hanno anche ragione perché se queste urla, questi schiamazzi, questi vetri, queste bottiglie rotte, io adesso sto facendo pulire la città non più il giovedì mattina ma il venerdì mattina perché quello che sporca non lo puliamo subito, però abbiamo cercato anche di dare limitazioni del trasporto del vetro, di bere, però non è solo il giovedì, questo deve essere sette giorni, deve essere così. Che Natale sarà questo in Macerata? Che albero sarà quello, lo spelacchio romano oppure quello tecnologico del Macerata 2000? No, non sarà una via di mezzo, sarà non tecnologico come l'anno scorso, più naturale, però sempre non è una bete che tagliamo, però sarà delle luci, anche lì abbiamo favorito di trovare i soldi per non fare spendere niente ai commercianti del centro, ma nel centro io non lo intendo solo il centro in Macerata, ma lo intendo anche Villa Potenza, Sforza Costa e Piedipa, per me tutto è il centro. Quindi stiamo cercando, sperando che questi, che la curva non ci riporta in zona gialla, di fare un Natale più tranquillo nell'anno scorso, sempre con rispetto del contagio, quindi attenzione a non fare quegli assemblamenti che potrebbero portarci, però a fare rivivere, sai il Natale è un periodo dove uno si sente più buono, si sente più… L'importante è che non si è blindato. Ecco, lo so, io non vedo ora che arriva Natale perché prima arriva e più so' contento, perché ogni giorno mi mette paura di quello che sento. I contagi, ritorniamo un attimo sui contagi perché è tutto lì, il lockdown è Natale. Guarda, io ho dei dati anche di oggi per dire i contagi, è un rapporto all'anno scorso, l'anno scorso avevamo 201 contagi e oggi ne abbiamo 45, i ricoveri l'anno scorso nel stesso periodo, abbiamo 80 ricoveri e oggi ne abbiamo 2, persone in quarantena l'anno scorso ne avevamo 4.290, oggi ne abbiamo 765, quindi stacca l'anno, io ieri sono andato, abbiamo aperto 8 reparto lì al pronto soccorso di malattie intensiva, diciamo, una chicca macerata, ho fatto una preghiera sperando che non mi serva, perché non è solo il Covid, lì ci andranno anche malattie infettive, era vuoto, bello, preparato, c'è stato fatto un investimento anche cospicuo e se dovesse succedere io non voglio vedere più le persone come l'anno scorso dentro il container. Perché poi la rianimazione è un po' la trincea, perché se c'è quella trincea è come nella prima guerra mondiale, ci sono due percorsi, uno più pulito, uno più sporco a secondo di chi arriva in emergenza. Abbiamo un ospedale con delle professionalità, dei dottori, degli infermieri. Il nuovo primario è molto bravo, Gattari, lo ricordiamo. Guardi, io l'ho vissuta personalmente, per un'infiammazione ho avuto al collo, diciamo, l'ho vissuta, ho vissuto vari reparti lì, perché mi hanno spostato per fare delle analisi. Adesso come sta? Ha fatto il check-up? No, no, ho fatto il check-up, bellissimo, mi hanno detto vai avanti tranquillo che ormai ho fatto il check-up, sai quei check-up che fai 100.000 km e ti dice, anzi, che non faresti mai, no? Poi quando ti serve le vai a fare e poi alla fine sei contento di averli fatti. Sono contento di averli fatti e sono uscito, l'altro giorno ho fatto l'ultima pet, tutto a posto. Però ho visto la professionalità, la gentilezza, ma guardi, è una cosa, abbiamo un ospedale che lo chiamiamo un nuovo ospedale di macerata, ma io lo voglio chiamare, oh, non mi sono, capite bene, lo voglio chiamare come unico, ma non perché è unico il termine unico, ma perché è una chicca, è bellissimo, cioè per me, io non ho vissuto altri ospedali, ma l'ospedale di macerata lo chiamerei unico per la bontà e la professionalità che ci abbiamo dentro. Adesso abbiamo perso un grande primario a neurologia, ma verrà senz'altro sostituito degnamente. Allora, noi lo chiamiamo il nuovo ospedale di macerata perché l'ospedale di Camerino, Sanseverino, Cilinanova rimangono. È logico che questi ospedali non possono avere tutti i reparti, tutte le professionalità che abbiamo a macerata perché bisogna, guardate che io penso che anche un primario deve avere dei reparti dove c'è tanto da fare, quindi però insieme costituiamo un nucleo dell'area vasta 3 che è professionale. Ed è importante, visto? È importante. Anzi strategico per... Io con la direttrice l'area vasta tra corsi c'è un contatto d'amicizia anche... Io ho instaurato un rapporto d'amicizia con tutti, perché insieme dobbiamo fare il bene di questa città, di questo territorio, che ha un grande brand che è la Tenere Marche. Se loro mi chiedono tutti, ma il Museo Caribaldino lo chiedono anche per strada, purtroppo so che ci sono delle problematiche da anni che rendono... Allora, io ho due progetti grandissimi. Uno è di creare contenitori. Ciò dove creare un contenitore grande, perché se non c'è i contenitori, il Museo Caribaldini dove lo faccio? Il Museo del Risorgimento, chiamiamolo così, dove i reparti Caribaldini sono importanti. Allora, noi abbiamo dei musei, buonaccorsi, che è una chicca, ma quante esposizioni possiamo fare all'anno? Quello è. Adesso quello di scienze naturali stiamo facendo giù ai giardini, ristrutturando quella palazzina, ma anche quella come dimensioni non potremmo esporre tutto il materiale. Noi abbiamo tantissimo materiale. Purtroppo lo abbiamo dentro scatoloni o dentro edifici. Quindi bisogna che io creo un contenitore per questi musei che abbiamo. Ma non solo per questi, ma se arriva uno a fare un'esposizione, un artista a fare un'esposizione di arte moderna, perché tanto andiamo verso sempre l'arte un po' moderna e poi con queste storiche, venga che ci sia, perché ridà le tradizioni che non dobbiamo perdere. Quindi devo trovare dei contenitori, perché anche uno che arriva al buonaccorsi, fa l'esposizione e poi finisce, potrebbe lasciare il suo materiale dentro un contenitore che abbiamo. Poi se gli serve fare l'esposizione dall'altra parte, lo porta via, lascia delle copie, delle esempi, però se non abbiamo tanti contenitori, noi abbiamo portato 26.000 persone al buonaccorsi. Con il contenitore che io ho in mente sulla testa di fare, che sono tanti buonaccorsi, sono tanti edifici del buonaccorsi, tanti, ma tanti, tanti me, porteremo 200-300.000 persone a macerata. E se portiamo due, ecco, gli investimenti che le dicevo prima, sui soldi europei, bisogna farli per dare anche un'economia futura. Quindi se io creo dei contenitori per portare i visitatori a macerata, questi visitatori portano ricchezza a macerata. Quindi l'investimento che sto facendo oggi me lo ritroverò un domani e non devo chiedere sempre i soldi all'Europa e allo Stato, me li creo da solo, perché me li ho creati prima. Ci sono però i palazzi ex Banca d'Italia, con il bugnato si abitò Ciampi, che tra l'altro fece anche l'ispettore alla Cassa Rurale di Pieve Torina, lo sanno che ancora si può diciamo due contenitori che dice lei, quello della Banca d'Italia, ma la Banca d'Italia vuole un sacco di soldi. Poi è sempre contenitori belli perché stanno al centro, chicche che stanno al centro. Però alberghi lì a comprarlo puoi farlo, chi se lo può permettere? Anche l'imprenditore che fa questo investimento deve ritornare su un'entrata. però Macerata non è ancora attrattiva per fare questi investimenti così grandi, perché farli deve avere i soldi, poi devi investire i soldi per farli ritornare. Quello sarebbe una chicca come albergo, però lì non è facile perché è un edificio anche un po' studiato, è un edificio un po' complesso. Poi c'è la Banca d'Italia che fa un sacco di soldi. La sovrintendenza, poi c'è i suoi vincoli. Come quell'altro che era l'ex Catasto che faceva giù a piazza di sotto, però sono sempre contenitori che alla fine su quello che io ho in mente sono ancora piccoli, quindi io ho ancora più grandi. È logico, tutti questi palazzi che ha già malato al centro dobbiamo ridargli una vita. Altrimenti non va bene. Un altro grande brand di Macerata è l'Arena Sferisterio. L'Arena Sferisterio è una cosa bellissima che abbiamo, è il teatro più bello all'aperto d'Italia, più bello di quello di Verona, di Taormina, di quello che... perché è un teatro all'aperto con palcoscenico grandissimo, con acustica favolosa, ancora meglio, che io dico non è di Macerata, è di tutto il territorio, è d'Italia. Quindi io stiamo rifacendo adesso il direttore, abbiamo fatto il bando per il direttore artistico, perché anche lì è facile a parlare, non cambiare, non fare, io non è che voglio cambiare, io voglio continuare anche quello che è stato buono, però ci sono dei fattori anche imposti dallo Stato che devi fare delle gare, non puoi continuare a fare... cioè ci sono dei paletti imposti dalla normativa che devi rispettare, non è che posso fare come mi pare. La Minghetti non rimarrà? Ma la Minghetti siamo stati amici, amici tanti, non rimane, stiamo facendo il direttore artistico, poi vediamo, lei c'è una società per fare spettacoli per i bambini, roba genere, se troviamo un percorso per fare anche insieme un domani, ben venga. Io con la Minghetti, allora, io come azienda e come personale sono entrato sempre dentro le strutture di Macerata, noi è da 40 anni che investiamo e diamo e non solo su una strada di andata, non di ritorno, non è che diamo per dopo ricevere, noi abbiamo dato sempre come azienda a Macerata e questo, guarda, chiunque mi interroga e volesse fare, lo faccio con le carte in mano, io non ho ottenuto niente, cioè ho ottenuto tantissimo da Macerata, perché io amo Macerata e l'azienda l'ho costruita a Macerata e la sede la potevo fare a Civitanova, non l'ho fatta a Civitanova, l'ho fatta a Macerata, però noi abbiamo contribuito come azienda tanti anni per Macerata, su tanti settori, uno di questi è lo sferisterio. Noi abbiamo investito, e pensi che io, se ci sono cento mecenati in casa, ho cinque mecenati, vi dico tutto, perché no? Potete fare sindacato, potete fare sindacato all'interno. Perché ho un posto anche ai sindaci di dare un contributo per i mecenati, perché è così, perché o ci credi o ami o non va bene. Un altro grande brand di Macerata, anche se un po' dimenticato dell'attuale situazione della squadra è il calcio, il calcio rappresenta il costume domenicale di famiglie maceratesi. Cento anni, no? Cento anni nel prossimo anno. Allora, anche lì apriamo una cosa che ho vissuto. Allora, noi abbiamo tra quella femminile dieci squadre di calcio. Può essere che ci sono dieci squadre di calcio. Ognuno. E siamo sempre lì, i campicelli, i campicelli e ognuno. E lo sport, siamo anche la città europea e lo sport il prossimo anno. Lo sport è una cosa importantissima, non marginale. Perché lo sport, dai cinque anni, io ho il nipote di cinque anni che si sta avvicinando allo sport, ma se si avvicina a quell'età e continua un percorso di sport e di studio, di insegnamento, perché lo sport è insegnamento, lo studio è insegnamento, vedrai che sulla testa non ci ha di spaccare la bottiglia alle quattro della notte, oppure droga o roba del genere, perché lo indirizzi verso un percorso di vita che è, diciamo, entusiasmante. Nello sport ti mette, poi non deve essere che tu devi essere il campione. Non serve il campione, serve che tu insieme, e la squadra del pallone è proprio questa, perché gli undici giocatori vivono insieme e partecipano alla partita. Non è che deve essere uno il centravanti più bravo del mondo, ben venga che ci sia, ma deve essere anche il terzino o il difensore, quello che miseria è, che deve essere bravo, se no la squadra non si tiene. Quindi ti ha un insegnamento di vita perché è un gruppo, una squadra, no? Poi sono undici che giocano, gli altri... Quindi il pallone e anche tutti gli altri sport, perché in Macerata c'è quasi tutti, no? Dei sport così, la palla a volo. È una cosa molto importante. C'è il razzo, ma c'è anche adesso, perché noi stiamo sponsorizzando anche con un'azienda, con una squadra che gioca, che poi sta vincendo, sta vincendo. Poi, guarda, è bello anche stare con i giocatori, perché anche fare dei pranzi e delle cene con i generatori, perché vedi l'umanità che c'è in queste persone. Ieri sera io ho invitato Dennis della Palla a volo, lo schiacciatore cubano, a cena con la moglie e la figlia. È stata una sera bellissima dove ho visto anche persone importanti nello sport seguite dai cittadini e devono dare un insegnamento loro, ma loro stanno dando un insegnamento perché sono delle persone vere. che ci hanno, io ieri sera parlando con Dennis e la moglie, ho visto, stanno facendo anche loro nel territorio della Colombia, di Cuba, roba del genere, delle cose importanti per quei poveri ragazzi dello sport che stanno laggiù. Quindi sono persone che credono nello sport, umane, e danno un insegnamento ai cittadini. Sai, a me quando stavo a Camerino diceva sponsorizzi la squadra di Camerino e Palloni, ho detto va bene, la sponsorizzo, però a fine partita dobbiamo fare tutti, dobbiamo fare una merenda insieme, tutti, squadra avversaria, eh non è possibile, allora non mi piace, dobbiamo fare lo sport e dare un insegnamento, no? Peccato esserci persi anche il Matelica dopo, ma va bene. Allora, il Matelica è stata una storia che ho vissuto in prima persona, con Canille, io Canille lo conoscevo, abbiamo cercato di portare la Serie C qui a Macerata, perché la Serie C poteva far decollare e portare dei vivagli dall'altra squadra. Allora, noi dobbiamo, stiamo adesso, abbiamo fatto un progetto per rimettere a posto anche il campo sportivo di Macerata, è un investimento anche con Spico, perché c'è da fare altre granitate, sistemare dove piove, gli spogliatoi, io mi sono lasciato con Canille, che c'era il tema di come chiamarsi, Matelica Macerata, Macerata lì, e poi io volevo che un domani si chiamava Maceratese. Eravamo quasi d'accordo, però si vede che ha avuto, capiamoci, a Macerata siamo una cittadina di 41.000 persone, Ancona è di 100.000. Si vede che ha avuto l'input il giorno dopo da Ancona per andare e lui è voluto andare a Ancona. A me è dispiaciuto, però dico sempre che noi ci possiamo permettere il pallone che ci possiamo permettere, quindi per metterci una serie C che costa da 2.000.000 a 2.500.000, ma Macerata non se lo può permettere. Andare a finire da una promozione che stiamo facendo a una serie D che costa sui 400.000-500.000, possiamo trovare degli imprenditori per... la squadra principale serve per trainare quell'altra, ma serve lo sport. Io devo andare in serie C, in serie B, in serie serve che costituisce uno sport insieme dai ragazzini e quindi dobbiamo sopportarlo. Tanti campi di calcio, ma piscine? Piscine, sta nascendo queste piscine che non ho progettato io, benvenga che serve, perché su una cittadina di 41.000 abitanti non serve solo una piscina, servirà più piscine. È logico, quello che stiamo costruendo giù alle casermette e laggiù, sono piscine più... a uso un po' non tanto agonista, perché per fare un agonismo bisogna fare una piscina di 32 metri, con otto vasche, insomma, anche quella... un progetto che io ho è di costituire a vita potenza il centro di un trofiere, di fare questo benenetto palazzetto dello sport e anche farci la piscina a campo da Vespa, quindi campo da Rimpi. E come Presidente della Provincia cosa intende se dovesse essere indicato dagli altri sindaci, compreso anche quello di Pieve Torino? Serve che mi vada a prendere da un ferramenta i chiodi, perché lì ho la croce di legno e io mi trovo i chiodi perché mi metto in croce, perché le cose da fare sono tante. E' logico che deve arrivare un Presidente della Provincia che unisce tutto il territorio, che unisce tutti i sindaci, per ritornare al discorso che ho fatto in precedenza, se noi siamo tutti insieme, io domenica scorsa sono andato ad inaugurare la chiesetta, c'era anche l'ex sindaco Carancini, che andiamo su a Castel Sant'Angelo, sotto al vettore, qui c'era una nebbia là su, un panorama col vettore stupendo, abbiamo portato la ricostruzione di questa chiesetta alla sua, è stato un segnale importante perché Castel Sant'Angelo sta al confine della provincia, ma sta sempre dentro la provincia, quindi se stiamo tutti insieme, ricostruiamo questo territorio, facciamo delle cose bellissime, perché guardate, è un territorio bellissimo, se noi non portiamo tanti turisti in tutto il territorio e lavoriamo insieme, insieme, dove andiamo? Castel Sant'Angelo una volta era a Umbria, comunque voleva andare da Umbro, ma non c'era a Stalistolo, e intanto inaugura un nuovo presidio sanitario, macerata, che è diventato, che si è rinnovato, Villalba, no? Sì, sabato mattina a 10 e mezza, ha inaugurato, ecco, anche lì, pubblico e privato devono andare insieme, nel rispetto del pubblico e nel rispetto del privato, quindi nascerà questa con 80 posti ristrutturata, bellissima, io già sono andato a farlo in giro, sabato l'inauguriamo, l'avete inaugurato sabato, appunto, sì, sì. Ecco, poi diventerà operativa dentro novembre, quindi è una bellissima cosa, bella, 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 perché dobbiamo lavorare anche col privato, io non so contro il privato, anzi, privato e pubblico, devono dare i servizi a 360 gradi. Grazie, signor Sindaco, lei è stato molto accogliente e ha risposto a tutte le domande, complimenti, continui così, non si è trincerato dietro a nessuna no comment. Viste di aiutarmi perché anche voi dovete fare la parte vostra. Ma la stampa è un po' così... Ma no, la stampa è la stampa, però bisogna dire, anche io dico sempre la stampa, non diciamo sempre cose negative, diciamo anche le cose positive, Villarba nasce, è una cosa positiva, portiamola a Rivalda, se troviamo che c'è stata una beneficenza su quel settore, facciamola vedere che c'è un cuore. Nel cuore grande di Macerata. E quello l'ho voluto fare, io in principio lì, anche lì abbiamo messo i soldi, abbiamo dato dei soldi a chi, queste povere persone che ci hanno bisogno, il cuore grande, bisogna che ogni maceratese abbia più cuore. E che ritorni la città cocca, di cui parlava Fede, del mio paese. È bellissima, però tra Covid che è successo adesso, ci siamo isolati, siamo diventati più freddi, più cattivi, ma noi, ma la vita è una, che stiamo a fare? E questo è il messaggio di Natale 2021. Ecco, siamo più buoni. In epoca di peste. Siamo più buoni. Almeno quello. Ma più buoni per gli altri. Ma poi c'è un beneficio, perché quando sei buono, c'è un beneficio anche interno tuo. Sì, sì. Con questo messaggio messianico, vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie sindaco. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.